io sono carlo condolucci e faccio l'accordatore di pianoforti sono felicissimo di farlo perché sono almeno 40 anni ho cominciato a 23 anni ora ne ho 64 in realtà ho cominciato prima ho cominciato a 15 anni ho imparato un po a perugia un po a londra l'accordatura non è musica l'accordatura è geometria acustica noi mettiamo in fila i suoni e abbiamo una tecnica per metterli paralleli convergenti divergenti e sappiamo di quanto la parte di accordatura come fare un massaggio ogni pianoforte ha la sua fisicità può essere più o meno faticoso da accordare può diventare quasi uno scontro fisico a volte come massaggiare una persona di 45 chili a volte come massaggiarne uno di 200 devi veramente faticare no non può essere fatto a macchina un appuntamento prende un paio d'ore può prenderne di più una bella accordatura richiede due passaggi la cosa più difficile dell'accordare un pianoforte è l'attrito che fanno le corde perché a volte le corde vecchie non scorrono allora succede una cosa simpaticissima che tu la tiri e la corda non viene su la tiri ancora non viene su la tiri un altro po viene su troppo allora la mandi giù ma non va giù la mandi giù ancora un po non va giù la spinge ancora un po va giù troppo questa è la cosa più antipatica che poi quindi combattere con gli attriti quando tu alla fine del lavoro vedi che la bambina mette il piano la mano sul pianoforte si gira sorride ti dice ma è un'altra cosa allora ti senti che hai fatto qualcosa di bello di buono di utile